Secondo voi, chiamo in buone mani, lui potrebbe proteggermi, possiamo chiederci, chiederci di darci una grossa mano in Italia, ce la può dare? Lui non sa cosa gli ho detto, ma dopo gli ve la tradotto. Prego tutti i nostri collaboratori di tornare al posto. Un applauso! Grazie a tutti!